I poveri non sono numeri a cui appellarsi per vantare opere e progetti, i poveri sono persone a cui andare incontro. Papa Francesco. E con questo concetto, in occasione della terza giornata mondiale dei poveri sul tema La speranza dei poveri non sarà mai delusa, che si celebra in tutta la Chiesa domenica prossima, 17 novembre, la Caritas Diocesana ha presentato il suo report Povertà e Risposte 2018. Il vescovo Armando Trasarti ha tenuto a specificare che i poveri non sono un problema della Caritas, i poveri sono un problema di tutti, dell'intera collettività. Ma soprattutto, riprendendo le parole di Papa Francesco, il report non serve per far vedere quanto siamo buoni e bravi. Il report ha lo scopo di mandare un segnale, di dare un'indicazione, perché le bollette non pagate, la mancanza del lavoro, del cibo, la mancanza di salute, sono un problema di tutti. Ed ecco che allora è forte l'esigenza, continua Monsignore, di bucare l'indifferenza, di vincere anche i luoghi comuni. Il report serve anche a questo. Delle 752 persone fisiche incontrate, solo il 44% sono donne, il 56% sono uomini. E altro stereotipo da vincere, il chi accede alla Caritas. Il 47%, poco meno della metà quindi, sono italiani, il resto stranieri. La povertà, dicono i vertici della Caritas Diocesana, è una vera emergenza. La prima azione da fare per un cristiano è ascoltare il grido dei poveri e quindi cercare di rispondere concretamente a tale grido, perché i più poveri non pensino che il loro grido sia caduto nel vuoto anche da parte di Dio e che perdano quindi la speranza. Questo report annuale ha il trippice scopo di segnalare, di sfatare, ma soprattutto di rendere conto alla collettività che attraverso l'otto per mille sostiene i progetti e le iniziative della Caritas, quindi in una parola trasparenza. C'è molta fantasia, sottolinea il Vescovo, attorno a ciò che fa la Caritas Diocesana, ma noi dobbiamo restare umili e a testa bassa perché i poveri non svanno sbandirati per fare i bravi, ma bisogna ascoltare, osservare, discernere per animare. Per fare ciò la Caritas, grazie alla sua presenza ecclesiale capillare nel territorio e dalla sua organizzazione stabile fatta di professionisti e centinaia di volontari, ha attivato decine di punti ascolto e di servizi alle persone e alle famiglie, nonché progetti e opere di sostegno. 750 persone e famiglie seguite, inoltre 3.600 passaggi o incontri, e 4.700 sono gli interventi operati mirati all'accoglienza, alla promozione della dignità. 92 poi sono le persone prese in carico con problematiche socio-assistenziali dal Centro Salute Caritas, con oltre 200 interventi e 86 visite mediche. I dati purtroppo raccontano di una povertà sempre più cronicizzata, multidimensionale e persistente.